Ciao a tutti da IOTE e bentornati sul canale. Questa sera, Cooking Simulator. Abbiamo una nuova ricetta, attenzione. Cosa vuol dire non rompere le bottiglie 55 XP? Qui, in basso. Cosa vuol dire? Non rompere le bottiglie 55 XP. Cioè se le rompi di tali di esperienza, non lo so. Vabbè, comunque abbiamo un nuovo piatto. Non mi viene la parola, un nuovo piatto. E adesso sicuramente ce lo chiederanno. Che poi è col tonno, origano, roba strana. Avete il nuovo ingrediente? Ok, iniziamo. Però non mi va più il cursore. Non si muove più. Non mi va più il mouse. Ok, adesso mi va il mouse. Perfetto. I nostri clienti, però mi va al contrario. Si è invertito. Si è invertito. Destra va a destra. Mi ha invertito gli assi, così. Vabbè, li metto così e poi vedremo perché. Ecco, adesso è giusto. E si è auto-invertito, vabbè. Lasciamo stare. Salta la fase di preparazione. Allora, che cosa abbiamo noi in pentola qua? Allora, ristorante, ricette. Questo qua è la nostra nuova ricetta. Sale, pepe, limone, rametto di origano. Limone a fette. Taglia, limone, 80 grammi a fette di 20 grammi. Questo invece, limone, 80 grammi in quarti. Questo invece a fette. Ah, allora. Però, siccome abbiamo la prima fase di preparazione, direi di incominciarci a preparare l'acqua. Perché ogni volta ce li chiedono. Quindi ci facciamo un litro d'acqua. E direi di metterla già a bollire. Tanti. No, questa. Sicuramente c'è la piastra che ci dovrà far fare qualcosa. Poi ci abbiamo i limoni. Direi di prendere e provare a vedere come si... Eh? Dov'è il limone? Limone? Che ci fai qua? Poi volevo vedere anche... L'origano. Ok, l'origano è questo. 4 grammi. Quindi, un origano è 4 grammi. Madonna, però ognuno si deve ricordare... Ogni volta a ste robe. Allora, fette. Vediamo un po' di vedere come tagliarlo a fette. 1 2 3 4 5 6 Non lo so perché le sto contando, eh. Eh? Secondo me è perfetto così. No? Però lui vuole a fette di 20 grammi? 10 grammi. Non ti piace 10 grammi? A fette di 20 grammi. Quindi 10 non è buono. Ok. Ne proviamo un altro. Tanti soldi, eh. Allora, vediamo un attimo. Facciamo un po' di esperimenti. Allora. A fette di 20 grammi. Quindi. Questo lo tagliamo. Secondo me, così, sono 20 grammi, più o meno. Vediamo. 18, 22. Sì, sono perfette. Ok. Dammi questo piatto. Che se ci divertiamo. Che è successo? Ok. Vabbè, bastano due fette, no? O ne vuole tutte? Vabbè, comunque. Prendiamole tutte perché da qua le dobbiamo togliere. Quella è caduta a terra. Come so? Questo qua buttiamo. Perché è il di dietro. E questo qua buttiamo. Ok. Poi. Eh? Saltiamo la fase. Vediamo subito. Ci siamo preparati solamente quello perché ci serve solo quello. Ah, ma abbiamo un trofeo. Io non l'avevo visto il trofeo. Il trofeo lo mettiamo qua. Nuovo ordine. Ah, doppio tra l'altro. Questo ci vuole 7 minuti e questo. Ok, allora. Questo è il pomodoro. Brodo di pollo, sale, pepe nero. Ok, brodo di pollo. Allora, brodo di pollo, 700 se non mi ricordo male. Questo glielo lo vestiamo tutto. Già fatto un casino. Vabbè. Eh, brodo di pollo, compra. Brodo di pollo ne vuole 700. Poi vediamo. Ok. Ci messiamo 300. Ok. Via. Brodo di pollo. Aspetta, aspetta, aspetta che ci sono le spezie. Sale 12 grammi. Anche se no diventiamo pazzi. Dobbiamo andare veloci perché... Allora, 12 grammi. Pepe nero 12. Pepe nero 12. Ok. Sto abbondando di tutto. Pepe di cayenna 6. Che è questo? 8. Questo sarà piccantissimo. Ok. 8 pomodori e una cipolla. Allora, una cipolla. 8 pomodori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E mettiamo a cuocere. Poi abbiamo... Tonno, sale e pepe. Questa è la prima volta che lo faccio, eh. Tonno. Dove sta il tonno? Dove essere questo? Sì. Quindi. Allora. Sale 5 grammi. Pepe 5 grammi. 1, 2, 3, 4 e 5. Pepe 5 grammi. 1, 2, 3, 4 e 5. Mi sono dimenticato di mettere il timer su 60 secondi. Questi sono già quasi cotti. Ma ve lo ormai. E... Aiuto. Mi sono perso. Tanti poi questo cosa vuole? Panna acida. Ok. È una ciotola. Andiamo subito alla ciotola. Questa è posto. Eh... Frullino. E... Panna acida quanto ce ne voleva? 300 se non sbaglio. No. No. Panna acida è 150. Ok. Quindi stiamo attenti per questo è di più. 150. Perfetto. Poi ci vuole 300. Qua. Ok. Vabbè dai. Ho messo un po' di più. Aspetta ci manca qualcosa? Ehm... No. Servizio. Pomodoro. Poteva aspettare a darmi il report però sembrerebbe andata questa. Eh... Zuppa di pomodoro. Zuppa di pomodoro. Composto. Quantità del prodotto sbagliato? Ah beh perché gli ho dato di più. È troppo... Eh lo so. Hai ragione. Allora. Adesso fatemi vedere questo perché io non lo so. Griglia. Ogni lato per 60 costi trafisci su un piatto. Ok. Griglia. Ogni lato per 60 secondi. Dov'è il tipo di cosa? Qua. 60 secondi o 80. 80 secondi. 80 secondi. Bistecca di tonno alla griglia. E poi ci abbiamo il filetto di salmone. Mannaggia. Già due comande alla volta è un casino. Filetto di salmone come si fa? Eh... Sale e pepe. Allora. Sale. E pepe. Questo qua è già un po'. E si sta cuocendo. Ok. Questo è quasi pronto. Mi do ricordare di girarlo. Ok. Sale e pepe. Poi cosa c'è? Aggiungi in una padella olio. E' il filetto di salmone. Ok. L'olio. Fuori 10 milli. Ok. Madò. Quanto ne ha buttato. Questo è già pronto. Dov'è la paletta? Qua. Questo si deve girare. Ok. Prendiamolo. E entra nel contesto. Ah. Così è molto più semplice. No. Aspetta. Ok. Questo è più facile. Da girare. Questo per altri 90 secondi. Attacca. 80 secondi. Poi. Bistecca di tonno alla griglia. Fette di limone. Fette di 20 grammi. Guarnizione. Origano. Ok. Questo invece vuole. Eh? 60 secondi. Ok. Allora. Questo. Dobbiamo fare così. No. 60 secondi. Se ci diamo un'occhiata noi. Perché? Prima che si brucia. E allora. Abbiamo questo. Che vuole. Il rametto di origano. Allora. Togliamo un limone da qua. Lasciamo qui. E ci vuole il rametto di origano. Spostiamo il piatto. Quando è pronto lo prendiamo. Siamo quasi. Dai. Dai. Quasi pronto. Questo. Ancora no. No. Questo è prontissimo. Lo prendiamo. Due rametti di origano. Giusto? No. Arrivo. Arrivo. È che si è rotto il piatto. Ora ho capito cosa voleva dire. Origano. 8 grammi. Arrivo. Un attimo. Fammi servire il piatto. Uno. E due. È caduto a terra ma il cliente non ha visto quindi. Serviamo. Cos'era questo? Bistecca di tonno. Ci siamo quasi. Fa schifo. Perché assaggia fa schifo? Scusa. Cosa sbagliato? Aromi perfetti. Tecnica. Bistecca di tonno alla griglia. Errori di riscaldamento. Temperatura era perfetta. Perché è caduto a terra secondo me. Poi si sarà bruciato qua. Questa si è bruciata secondo me. Questo lo serviamo lo stesso. E non ce ne frega nulla. Perché il cliente secondo me gli piace questa cosa qua. Vai. Cuoci. Ma qua si sta deteriorando tutto. Tutto sozzo è diventato? Non capisco. Vabbè. Lui vuole però... Le patate! Le patate! Le patate! Lui vuole nelle patate 20 grammi di sale. Me l'ho dimenticato le patate. Vero. Questo c'ha le patate. Due patate al volo. Uno e due. Però l'acqua è già calda. Quindi dovrebbe essere abbastanza facile. Infatti si cuociano abbastanza in fretta. Questo è già cotto. Basta. Ci serve un piatto. Del limone tagliato in quattro. Se non mi ricordo male. No. 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 Niente limone. Niente. Lui vuole solamente quello e questo. Ok. Ok. Dovevo aspettare solamente questo. E... E poi pulire. Già. Nella piastra, eh. Ah! Ah, non richiede olio. Non esagerare. Tutto dovrebbe essere appoggiato. O digerare il prodotto quando la ricetta richiede di farlo. Praticare l'uso di spatola è una buona cosa. Ok. E io l'ho fatto giusto. Forse perché io non ho contato bene come diceva lui. Non lo so. Secondo me era giusto. Cioè, il discorso è che... Aspetta, ma... Questo qua, che è il nostro trofeo. Non lo posso mettere qua. Esatto. Il mio primo trofeo. Esatto. Mettiamo lì. Questo si può... Ah! Tu puoi tenere tanti piatti aperti. Ok. Aspetti... Ah, e beh, dopo puliamo. Cioè, non possiamo stare qua. Bene, nel frattempo possiamo fare così. Dai, prima che ci tagliamo. Uno. Cocci. Non rompere bottiglie. Ah, ma questo era un piatto, quindi... Finito? Perché io qua non c'ho il coso. Ci siamo quasi, perché... Dobbiamo stare un po' attenti. Due. Sperando che non si fredda... Il tonno. No, ancora no. Tre. Due. Uno. Spegni. Piatto ricco. Micifico. Uno. Che è successo? Due. Tre. Piano, perché sennò questo cade. Non devo mettergli niente, vero? Non me lo ricordo. Un tiro è già così. Questa. Via. Vediamo cosa ci dice. Beh, non è andato male questo qua, eh. Vediamo cosa ci dà. Ah, bistecca di sale. Troppo ole. Lo so, hai ragione. Eh, lo so. Eh, tecnica di sale. Ho fatto schifo. Ok, cosa vogliamo? Costolette di maiale. La prima volta che le facciamo. Quindi, costolette di maiale, 200 grammi. Quanto è una? 200 grammi. Quindi, abbiamo bisogno di sale, 4, pepe, 4, timo. Sale, pepe. Sale. Pepe. Pepe, pepe. E timo, 6. Dov'è il timo? Timo è tanto che non lo utilizzavo. Timo, 6. 3, 4, 5 e 6. Perché poi guardo sopra invece di guardare sotto? È un casino. Poi aggiungi in una padella olio di girasole 30 e costolette di maiale. 30 in una padella. Che, che, che finì e fatto la padella? No. Guarda che mi butti via la padella. E dov'è la padella adesso? Qua. Guarda che mi ha buttato via la padella, visto qua. 30 di olio. Perfetto questo olio qua. Olio. Accendiamo. E li mettiamo la costoletta. Di maiale. Friggio in il lato per 60 secondi. Quindi, 1. 90 secondi. Non 60. 90. Trasferisci sul piatto servipolente. Patate al forno. Patate 300 grammi a tocchetti da 50. Condisci con sale. Trasferisci in la teglia. Quindi patate 300 a tocchetti da 50. Quanto è una patata? 1. e 2. Patate al forno a tocchi da 50. Quindi. Non... Non ne ho la più palida idea. E ci proverò a fare, tipo, così. Dovevo frizzarlo questo, mannaggia. 1. E 2. Sale. Condisci con sale 6 grammi. 2. 3. 1. 2. 3. Che ne so io. Nel forno. Perché è caduto? Dai! Prendi la patata. E cade. 1. Prendi anche questa. Scusa, grazie. Per quanto tempo nel forno? 80. Sì, arrivo. 80. Madonna, è da impazzire, però. Ok, 80. Questo si deve girare. Così. Perfetto. Sta venendo bene, però, eh. Non pensavo. Quanto è stare questo? 90. 90 secondi. Quindi. 1, 2, 3. Via. Ah. Trasfisci in una teglia da forno, cuoci al forno, trasfisci il piatto e servì bollente. Ok. Ehm. Prendiamo un piatto grande per questo, va? Sta cuocendo. Sta cuocendo. Questo ci sta andando. Oh, che forse l'abbiamo fatto, eh. Ci siamo quasi. Così è scattato questo. Ok, perfetto. Piatto. Io le metto tutte, che me frega. Tanti questa ha fame. Forse è quasi pronto. 2, 1. Via. Piatto. Non vuole nient'altro, vero? Piatto. Piatto. Secondo me le patate sono sbagliate. Vai. Vai, il nostro altro ordine. Vai che siamo veloci per cucinare, eh. Eh, non siamo andati male, eh. La mantena il cliente. Aromi. Patata al forno. Troppo sale. Si l'aveva messo. Però è perfetto, è perfetto. Tecnica e temperatura, eh. Signori. Eh, 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 eh. È andato benissimo. E abbiamo anche il tempo di un nuovo ordine. Ora, io quest'ordine qua, bro, tipo... Io c'ho questo. Io gli consegno questo. Vediamo cosa succede. Dirà che sarà fredda. Non lo so. Dirà che è fredda. Ma... Però, onestamente... Ah, no, non ce ne frega niente. Non è bollente. Ho capito quando dici che è bollente. Vabbè, intanto gliela serviamo. È calda. Non è bollente. Ho capito come si dice, fa diventare bollente. Lamentele. Zuppa di pomodoro. Troppo cayenne. Tecnica e temperatura troppo fredda. Infatti è... Però ci siamo tolti l'ordine di mezzo. Allora, praticamente, io ho capito che per farlo diventare freddo... Questo è freddo. Vedete che c'è la barretta verde? Bisogna pulirla. Ah, questo non serve più. Bisogna riscaldarla. Ok. Cosa abbiamo? Ah, è la classica trota. Questa, ancora, ce la ricordiamo. Trota. Tagliere. Ci abbiamo... Cinque di pepe, timo e aneto. Giusto? Pepe, timo e aneto. Pepe. Andiamo col pepe. Un, tre, quattro. Cinque. Pepe. Ehm... Aneto. Però le macchine no, dai. Cioè, spiegatemi come si fa a togliere le macchine, perché... Pepe, timo e aneto. Un, tre, quattro e cinque. Perché è odioso. Già nella vita reale sono brutte. Poi qua. Ok. Ehm... Mettino una teglia al forno per 90 secondi. Ok, teglia. Piano, perché se non cade. 90. Spavendo. La paura. Ok. 90 secondi. Ehm... Rafano, però ci vuole il limone in 80 pezzi da quattro. 80 pezzi da quattro. Vabbè. Allora. Limone. Andiamo qui e facciamo così, guarda. Allora. Uno. Giriamo. E due. E due. Ehm... In teoria dovrebbe essere tutto giusto. 24, 19, 16, 21. Ci siamo. Piattino. Limonaus, 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 limonaus. Bluff house. Bluff house. Guarnizione prezzemolo. Ricordiamoci il rafano. Quindi ce lo prendiamo. Che è questo. Lo mettiamo qua. Questo limone qua. Ma lascialo qua. Si sa male. Qua dobbiamo pulire. Bene. Nel frattempo possiamo dargli una pulita. Eh? Cioè. Faceva un po' schifo. To. Ci siamo quasi. Spengianci. Piatto. Piatto perché se non volano le cose. Fermo perché se non vola. Ok. Rafano. Quanto di rafano? Rafano ne vuole, ne vuole, ne vuole, ne vuole 5 grammi. Quindi questo è tutto 5 grammi. 1, 2, 3, 4 e 5. Ma che so le trombe le cose. C'è un casino fuori. E di questo ne vuole 1, 2 e 3. Signori. Questo piatto viene perfetto. Secondo me. Questo è perfettissimo. Sapevo io. Vediamo la mentele. Perfetto, perfetto. Lo sapevo che veniva perfetto. Questo è stato l'ultimo ultimo per oggi. Quando avresti finito preparati per domani. Lo sapevo che era perfetto. E abbiamo concluso con un piatto perfetto, signori. Piatto, a dir poco, perfetto. Per oggi è tutto. Spero vi siete divertiti. Stiamo cercando di migliorare la tecnica, soprattutto nella cucina. Soprattutto nelle tempistiche. Ma soprattutto devo capire come togliere sto rumore delle macchine. Perché veramente non se può. Quindi io vi auguro la buona serata. Se lo state vedendo di sera, la buona giornata. Se lo state vedendo di giorno. Io sto registrando di sera, come al solito. E grazie della compagnia, della vostra compagnia. Spero che io sia riuscito a darvi un po' di compagnia. E un po' di svago e divertimento e relax. Per oggi è tutto. E come sempre, siete mitici. E alla prossima. Bye, bye. E a me toccano le pulizie. Ciao.